Grazie a Nivea, che è il cuore pulsante dell'azienda Beisdorf, siamo i pionieri nella ricerca e nello sviluppo di prodotti della pelle. Cerchiamo di lavorare con azioni concrete in questo percorso di sostenibilità. Un impegno che si sposa perfettamente con quello che è il purpose, lo scopo dell'azienda, prenderci cura dell'unico pianeta che da sempre ci ospita. La sostenibilità è al centro di tutto quello che noi facciamo. Cerchiamo di contribuire a un target che è quello di avere entro il 2050 il raggiungimento di zero emissioni. A dicembre del 2022 abbiamo ricevuto una grandissima certificazione da Carbon Disclosure Project. Circa 15.000 aziende hanno tentato di prendere la AAA, solamente 13 ce l'hanno fatta, Beisdorf è rientrata. A fine 2022 abbiamo ridotto del 17% le emissioni di gas a serra e questo ci incoraggia per il raggiungimento del nostro obiettivo della riduzione del 30% entro il 2025. Sempre più centrale sarà il nostro impegno di utilizzare almeno il 50% di plastica riciclata, 100% di ingredienti provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili. L'anno scorso abbiamo effettuato un progetto di riqualifica dei giardini Pippa Bacca a Milano e quest'anno abbiamo deciso di passare dalla terra all'acqua rigenerando un'oasi marina. Con Nivea Oasi Marina andiamo a mettere a dimora 5.000 piante di posidonia oceanica presso i fondali dell'isola di Palmaria e dell'isola d'Elba. La missione è ripristinare l'habitat marino fondamentale con dei chiari benefici.